giornata di laboratorio all'istituto falcone scauda di torre del greco questa mattina gli alunni delle sezioni dei 3 4 5 anni della scuola dell'infanzia hanno presentato il laboratorio geografia emozionale le avventure di pinocchio un viaggio attraverso la fiabba di pinocchio che proprio nel 2021 compie 140 anni i bambini della scuola dell'infanzia dei 3 4 e 5 anni del plesso raffaele scauda sono impegnati in un bellissimo percorso di geografia emozionale un luogo visto non soltanto per i suoi aspetti fisici morfologici ma il luogo che evoca emozioni ricordi e i bambini lo fanno attraverso la storia di pinocchio quest'anno pinocchio compie ben 140 anni il suo compleanno e i bambini attraverso un laboratorio di geografia emozionale ripercorreranno quelli che sono i luoghi della storia e soprattutto le emozioni che prova pinocchio all'interno di questi luoghi dalla casa di geppetto alla pancia della balena al circo di mangiafuoco al paese dei balocchi inoltre saranno impegnati in tre tipologie di laboratori il laboratorio per i tre anni il laboratorio ludico il laboratorio del paese dei balocchi il laboratorio scientifico che coinvolge i bambini di quattro anni quindi come dai prodotti naturali ricaviamo i colori il laboratorio della fata turchina la fata turchina che indica appunto la magia e infine il laboratorio linguistico che vede coinvolti i bambini di cinque anni la festa della scuola dell'infanzia di oggi è all'insegna di una ripresa all'insegna della ripresa delle attività didattiche in presenza anche nella scuola dell'infanzia i docenti hanno lavorato su quella che è l'affabetizzazione emotiva oggi fondamentale in ogni percorso formativo i bambini scoprono le loro emozioni le conoscono imparano a gestirle lo stupore la gioia ma anche la paura quella paura che nei mesi scorsi ha pervaso ognuno di noi ed è importante saper gestire ogni emozione e quale abbinamento più felice quello di abbinare appunto di collegare il vissuto emozionale con le avventure di un personaggio a noi sempre caro pinocchio le docenti della scuola dell'infanzia ancora una volta si distinguono perché hanno fatto una magia hanno portato nel paese dei balocchi non soltanto i bambini tutti i bambini della scuola ma anche noi adulti e per noi viaggiare nel mondo della fantasia non può fare che bene in un momento storico come questo grazie a tutti